Questo dirice, ci liberi da ogni male, o vergine a subito, nostra amata e cara Patrona. E per intercessione di Maria Santissima, benedica voi tutti, Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amo. Se vedi a prendere qualche santino da portarvi sopra. A voi, grazie. 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 Allora in questo momento Don Leonardo Ricotta sta portando il Santissimo nell'ostensorio sul territorio della sua parrocchia per scongiurare contro la diffusione del coronavirus. Santo Sacerdote, benedice tutti i negozi e le case. Guardate. 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 Grazie.